ciao a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova re-action sto facendo una re-action dopo l'arte anche perché è uscito il raleone ma non solo perché uscirà anche Pinocchio uscirà Mulan uscirà Lily Vagabondo è uscito Adaline è uscito Dumbo stanno rifacendo tutti i capolavori Disney ed è per questo che oggi sono qua a fare la re-action di sempre che sia un trailer ufficiale ovviamente però penso di sì Pinocchio yes Pinocchio Pinocchio a quanto pare in live action è stato rivelato anche il Vagabondo che uscirà a novembre quindi mamma mia via 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 ragazzi non vedo allora via 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 Pinocchio mi preferite da leone lo dico subito sì ma l'ho saputo però ho già detto sempre che sia un trailer originale questo l'ho trovato per caso sul web geppetto eccolo 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 Pinocchio l'ho visto Pinocchio Pinocchio tanto è fatto benissimo mi piace tantissimo ragazzi eccolo Pinocchio Pinocchio sinceramente non lo guardo tantissimo non mi ha mai appassionato tantissimo preferivo il re leone il libro della giungla Pinocchio è un capolavoro anche questo come tanti altri della Disney che dire credo è già finito è durato pochissimo ahimè ma se ne saranno altri e che dire ragazzi vi saluto vi ringrazio per la visione ciao Pinocchio 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 Grazie a tutti.